Buongiorno, siamo reduci da qualche settimana dalla conferenza economica per ritornare a crescere che si è tenuta a Monfalcone. Tra i principali attori di questa conferenza, la provincia, siamo con il Presidente Enrico Gheghetta. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Cosa abbiamo portato a casa? Si è discusso di com'era la politica economica, di com'era l'economia in provincia di Gorizia e di come dovrebbe essere, di come sarà? Sì, speriamo di aver portato a casa la consapevolezza che stiamo andando tutti verso la stessa strada, che è quella di sfruttare al meglio la nostra nuova centralità europea. Non siamo più ai confini dell'impero. Non siamo più ai confini dell'impero, siamo di colpo arrivati al centro dell'impero. Prima c'era questo muro che era questo confine che ci impediva in qualche maniera di vedere oltre, non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista, diciamolo pure, economico. E oggi con questa nuova centralità, diciamo così, la conferenza aveva questo piccolo obiettivo, piccolo ma importante obiettivo. Dovevamo prendere la nostra comunità che da sempre era abituata a politiche di assistenza, che era abituata alla presenza dello Stato, che era abituata a tantissime cose e dovevamo metterle assieme e farle capire che bisognava essere diversamente protagonisti in Europa se si voleva contare qualcosa. Presidente, in questa conferenza economica sono state fatte tante proposte, però una cosa è sorta in maniera proprio inevitabile. Noi siamo al centro, tutti devono passare di qua. Logisticamente siamo al centro dell'Europa. Diciamo che abbiamo alcune cose semplici, come tutti quanti sanno. Abbiamo il porto più a nord del Mediterraneo, abbiamo le prime pianure provenienti da est e abbiamo l'unico valico di pianura delle Alpi. Questo fa di noi un territorio appetibile. Non è una cosa che da sola basta oggi, perché forse il mondo richiede un salto di qualità, più innovazione, la green economy e via di questo passo. Però, diciamo così, siamo più avvantaggiati di altri per cercare di metterci in gioco. È troppo semplice dire che bisogna fare gioco di squadra? Ma lo dicono tutti, no? Questo è il problema. Cioè, in un mondo in cui tutti cercano di fare sistema, se tu non lo fai, ti suicidi. Però se lo fai, è utile, ma non basta, non è sufficiente. Bisogna cambiare. Per noi, soprattutto, bisogna cambiare la mentalità. Bisogna assumere una mentalità imprenditoriale. Non dobbiamo solo chiedere lavoro, dobbiamo porci il problema di costruire lavoro. Nessuna generazione nella storia dell'umanità ha mai avuto i vantaggi di partenza che hanno oggi le nuove generazioni. Se non fanno loro gli imprenditori, non si mettono loro in proprio, non rischiano, nel nuovo contesto europeo, noi vediamo chi lo deve fare. E in più, bisogna approfittare proprio di questo fatto. Si è aperto il confine, si è aperto il territorio e quindi te la puoi giocare. Meglio degli altri, più degli altri. Ecco, questo è il messaggio di fiducia e anche di forza della comunità esantina. Non ci sono più i confini e la Slovenia, attraverso una tassazione più vantaggiosa, ci fa concorrenza. È un problema solo nostro o dobbiamo contattare qualcun altro per risolverlo? Non possiamo lanciarci da soli, non possiamo. Questo è un problema che riguarda l'Europa e lo Stato nazionale. Qui si sono fatte due guerre mondiali affinché noi diventiamo Italia e adesso che abbiamo un problema reale, perché a 500 metri da qui una impresa paga il 30% in meno di tasse, noi dobbiamo fare in maniera che lo Stato intervenga nei confronti dello Stato sloveno per creare un equilibrio, quella che l'Europa chiama armonizzazione dei sistemi fiscali. Altrimenti che Europa è? Non ci possono essere grosse diversità e non possiamo essere soli, noi lasciati. Qualcuno ieri ha detto, sai ma basta che facciamo un po' di federalismo fiscale. Io gli rispondo come si risponde nel famoso gioco che c'è in televisione. Ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti. Non è che dobbiamo fare, noi con i nostri soldi ci dobbiamo autoridurre. Qui c'è un problema reale che riguarda tutta l'Italia, riguarda questo confine orientale, non è più la cortina di ferro di quale libertà di dare il comunismo, abbiamo un problema reale fiscale, lo Stato deve intervenire. Non c'è una condizione a parte, anche perché questa è un'emorragia. Come ho detto ieri, noi siamo come Pelarbur, bombardati dall'artiglieria nipponica. Le nostre imprese, le nostre partite IVA, chiunque per portare avanti quel sogno di cui ho appena accennato, bisogna che ci sia questa possibilità. Non vogliamo dei vantaggi, toglieteci lo svantaggio però. Alla fine della conferenza si è parlato di Clean Economy, economia verde. Perché? Devo dire che il messaggio finale che ho dato alla conferenza è stato lapidario, e cioè che la ricreazione è finita per tutti. Per tutti i politici, per tutti i consiglieri regionali, per tutti gli impenditori, per tutti quelli che in qualche maniera pensavano che noi potessimo, che tutto cambi perché nulla cambi. Questo è il concetto. No, no, la ricreazione è finita, bisogna assumersi le proprie responsabilità, altrimenti alla nostra gente procureremo un futuro di miseria e non di benessere. dobbiamo prenderci le nostre responsabilità e dobbiamo fare delle scelte, dobbiamo cambiare, non c'è alternativa. È quello che dicevo prima, non bastano i vantaggi geografici, ci sono, sfruttiamoli. Sfrutteremo tutto fin all'ultima virgola che abbiamo a disposizione. Però dobbiamo sapere una cosa più forte, non basta sfruttare i vantaggi, bisogna cambiare, bisogna innovare, bisogna proporre cose nuove. Ad esempio la green economy non è che per noi significa, sono di moda. Il tema principale è ridurre il costo dell'energia elettrica alle nostre imprese e alle nostre famiglie. Questo è il punto, perché il costo dell'energia elettrica è una delle condizioni dello sviluppo, della competizione. Noi viviamo in un mondo così adesso, non siamo più una terra di frontiera. Da noi a casa nostra passa il corridoio 5 e il corridoio 5 è globalizzazione. Da noi si parlano tutte le lingue di questa terra e la gente che si muove è globalizzazione. All'Ikea si vendono salmoni che non sono italiani, prodotti alimentari che non sono italiani. E questa è globalizzazione. I nostri vestiti sono fatti in un'altra parte del mondo. E questa è globalizzazione. Noi siamo in mezzo a tutto questo. Non possiamo pensare di chiuderci. Dobbiamo fare e vincere la grande sfida. La grande sfida è riuscire a tenere insieme la nostra identità, gli italiani, gli sloveni, i friulani, i bisiacchi, i gradesi. L'identità che viene dai nostri nonni, la casa nostra, il nostro territorio, la nostra patria, il nostro essere comunità, con la capacità di essere aperti e di saper competere nel resto del mondo. Se riusciamo a fare questo, allora avremo una possibilità. Ecco perché la green economy, ecco perché il turismo, ecco perché la logistica, dei grandi assi del disontino, l'abbiamo fatto fino adesso, non penso che sbaglieremo proprio ora. Grazie al Presidente Enrico Gerghetta.